Il tuorlo è dalla chiara. Allora che fanno qua? No, zitto, no vabbè. Che favo qui? Aspetta, riprendi, c'è la pancuna. Questo è chiare, questo è chiare. Le metti da una parte, bravo. Il tuorlo, del tuorlo, c'hai un tegame? Bravo, c'hai un tegame, lo metti dentro il tegame, così. E poi c'è qui. Quello con latte? No, un tegame, semplice. Un centraglietto, il latte, il latte si sta raffreddando. Perché io lo metto dentro il tegame? Perché così, perché lo devi tenere così? Detto a tegame. Bravo, ecco. Quell'altro è chiare, la lasciate là. Eh, beh. Bravo, ecco, lasciate lì, perché non servono. Non servono per farci la cosa, come si chiamano i bianchini? Ah, i cosi, la ringa. La meringa, la meringa, bravo. Eh, ma tu mi stai a degliare. Senti, adesso il latte è arrivato a 35 gradi. Beh, prendi quel contenitore dove c'hai le uova, giusto? Qual è questo contenitore? Quello che ti ho dato prima. Ma che se c'è, tu l'uovo l'hai divise con la chiara da una parte e il tuolo da un'altra. Quale uova devo prendere? Il tuollo. Il tuollo. Il tuollo. Eh, beh. Buttalo dentro la venti, calo. Uno, uno. No, no, tutti. Quanti, quanti? Sono 50. 50? 50, bravo. 50 rossi. Sì, 50 rossi. Giralo. Lo giro? Gira. Ecco. Sta diventando rosso? Sì. Beh, no rosso, giallo. Giallo. Prendi un pochino di quelle chiare che hai detto. Chiara là. Prendile però. Ecco. Eh, giro. Poco, la metà. Non troppo, la metà. E giro. E giro. E giro. Sì, se ci butta tutto lo venteno. No, no, va bene. Perché un quarto di quelle chiare devono rimanere da parte che non ti servono più. Ma dopo quanto tempo ce le devo mettere l'uovo? Mezz'ora. Ah, vedi, non me l'ha detto così. Ecco, ma te l'ho detto. Adesso lo sai. Dopo mezz'ora io ho messo. Ah, ecco. Ecco. È pronta. Quella si chiama base. Eh. È pronta? Sì. C'è il mantecatore? Il mantecatore? Che c'è il mantecatore? Il mantecatore. C'è il pastorizzatore dove si fa bollire il latte, si fa raffreddare, così via. Perché un'altra volta va messo al pastorizzatore? No, no. Quello è già bollito? No, per darti una spiegazione com'è il mantecatore e com'è il pastorizzatore. Allora, il pastorizzatore è per bollire il latte, per portare il cigliore. Il mantecatore è per fare il gelato. Hai visto quando giro e tu prendi quel bel gelato? Ma che era fredda? Che era fredda. Porta sì, era freddamento, esatto. E diventa gelato. E diventa gelato, bravo. Da una cosa liquida diventa... Ma antichamente quando... Allora, se volete fare... Aspetta, se volete fare un buon gelato, da Sebastiano dovete chiamare. Da Sebastiano.it Sì, bravo, in Salamoglia, tipo Salamoglia.